Un museo che racconterà la transumanza in chiave multimediale in una struttura che è un piccolo gioiello architettonico in quel di Villanova del Battista. Apre ufficialmente il Museo Multimediale della Transumanza. Ieri taglio del nastro affidato al sindaco Raffaele Panzetta, al vescovo della diocesi di Ariano Lacedonia Sergio Melillo e al consigliere regionale e presidente della Commissione Agricoltura Maurizio Petrarca. Il Via Progetto c'era stato oltre un decennio fa quando ero primo cittadino Raffaele Iorizzo ma l'iter è stato lungo e fatto di stop e ripartenze e solo ieri quindi si è potuto procedere all'inaugurazione. All'interno del museo verrà custodito un patrimonio culturale ed antropologico vastissimo e notevolissimo che ripercorre la storia della transumanza in Irpinia. Il Museo Multimediale della Transumanza è una piccola teca di vetro, giochi di luce ed acqua che esaltano il paesaggio circostante. All'inaugurazione ha partecipato una comunità festante, considerato anche il lungo periodo di stop che l'opera ha subito. Queste strutture, ha dichiarato il consigliere Petrarca, in territori interni come i nostri e in congiunture sociali ed economiche complesse come quelle che viviamo, chiamano tutti noi ad una sfida più ambiziosa, quella della testimonianza. dobbiamo testimoniare coesione ed agire di conseguenza. È l'unica strada possibile oggi, per produrre futuro, senza mai voltare le spalle al passato.